Lei era la più attraente star del cinema che fosse mai esistita. Aveva delle grandi abilità che in tutti ignoravano. Ho sentito dire che fosse una scienziata, ma è vero? Fan fatal o genio incompreso? Chi era veramente Eddie Lamar? Eddie voleva fare cose importanti, voleva lasciare un segno. Sulla F, il ritratto di una straordinaria donna d'altri tempi, che ancora oggi rimane un mistero. Credo di essere diversa. Forse arrivo da un altro pianeta, chi lo sa? Bombshell, la storia di Eddie Lamar. In onda sulla F e disponibile on demand.